Chi si occupa di sviluppo sostenibile forse deve cominciare ad andare da uno psicologo perché il rischio di schizofrenia è altissimo e anche oggi in questa presentazione illustrerò elementi che ci fanno essere super entusiasti e altri che ci fanno essere un po' depressi. Quindi ve lo dico subito questo è quello che vi aspetta in questi 20 minuti di presentazione ma è quello che oggi viviamo. Chi si occupa di queste cose vive tutto ciò. Io potrei raccontarvi un anno di lavoro dell'ASVIS cresciuto cresciuta come alleanza oltre 220 soggetti tant'è vero che il video che avete visto è ancora quello vecchio non l'abbiamo aggiornato e lavoriamo nell'educazione allo sviluppo sostenibile nelle scuole nelle università adesso la scuola nazionale di amministrazione che tra l'altro ha presieduto il professor Tria per anni comincerà anche a fare corsi per i dirigenti pubblici e poi ci sono progetti ovunque ma poi il festival dello sviluppo sostenibile è stato un grande successo oltre 700 eventi in tutta Italia concorsi premi mobilitazioni di pezzi importanti della società civile i media con un po di fatica con tanta fatica che dedicano più attenzione a questo infatti da questa da oggi parte il nostro Tg settimanale questo per dare anche una mano ai media che trattano di sviluppo sostenibile ma forse non sempre in modo integrato e poi gli indicatori statistici i modelli e dunque tutto bene questo è il primo pezzo della storia come vedete durata un minuto perché se andiamo a guardare come sta il mondo e l'ONU lo fa ogni anno abbiamo la stessa sensazione ci sono importantissimi passi avanti 112 paesi hanno presentato le proprie strategie di sviluppo sostenibile tra cui l'Italia l'anno scorso il settore privato si sta impegnando in questa direzione il rapporto lo rende evidente i nuovi standard internazionali di rendicontazione sono allineati finalmente ai sustainable development goals agli SDGs ci sono forti investimenti in energie rinnovabili c'è una mobilitazione mondiale per la lotta alla plastica che sta distruggendo non solo i mari ma anche la nostra vita c'è una crescente attenzione alla finanza sostenibile agli investimenti a impatto sociale c'è una maggiore copertura mediatica e dunque mi dispiace non ci siamo non ci siamo perché abbiamo contraddizioni e segnali negativi importanti dal 2010 al 2018 continuiamo ad anticipare il cosiddetto overshoot day cioè il giorno in cui secondo alcune stime consumiamo le risorse del pianeta adesso siamo arrivati al 2 agosto e come vuol dire che in sette mesi noi consumiamo il pianeta per tutto l'anno ci sono forti resistenze al cambiamento climatico e anche negazionismo del cambiamento climatico non certo in italia visto che ormai sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo i disastri naturali sono evidente in tutto il mondo è tornato a aumentare il numero di chi soffre di fame nel mondo il degrado ambientale comune continua con forte consumo di suolo ci sono 40 milioni di schiavi nel nostro mondo di cui il 70 per cento sono donne un fenomeno non solo inaccettabile ma di una ingiustizia totale l'aumento delle disuguaglianze a favore non solo dei ricchi ma soprattutto dei ricchissimi i dati sono sotto gli occhi di tutti abbiamo quasi 70 milioni di persone nell'ultimo anno rifugiate o sfollate a causa di guerre conflitti e 28 milioni sono diventati migranti ambientali addirittura una categoria che nelle legislazioni non è ancora prevista ma che evidentemente crescerà continuamente quindi mi dispiace non ci siamo non siamo sulla dimensi sulla retta giusta o sul percorso giusto per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'europa bene quest'anno abbiamo fatto un forte investimento in termini di ricerca elaborando a partire da gli oltre 100 indicatori elaborati da Eurostat vedete questo è il nuovo volume di Eurostat non ancora pubblicato e sono 100 330 pagine non so quanti di voi avranno modo di leggerlo ma non vi preoccupate nel prossimo minuto capirete come stiamo messi perché basta guardare questi indicatori che si basano su quegli indicatori lì ma in modo più e vedete che siamo fermi su molti degli obiettivi e laddove miglioriamo miglioriamo un pochino miglioriamo su alcuni temi legati alle energie rinnovabili ma naturalmente sul piano sociale sul piano dei redditi dell'occupazione gli ultimi 7 8 anni sono stati sostanzialmente di stagnazione per l'unione nel suo complesso ma molti paesi sono andati indietro se volete andare sul sito trovate questi dati anche per tutti gli altri paesi è possibile ridurre un pochino l'intensità della luce grazie perché sono mi rendo conto adesso sono impossibili quasi da leggere vi toccherà leggere il rapporto e questi sono i gol sulle disuguaglianze sulla condizione delle città su gli elementi legati all'economia circolare vedete come negli ultimi anni si è appiattito il miglioramento che si era osservato negli anni precedenti e poi il crollo invece della situazione delle biodiversità della la qualità degli ecosistemi terrestri insomma è evidente che l'europa non è su un sentiero di sviluppo sostenibile eppure vediamo importanti passi avanti c'è stato rispetto a qualche anno fa un miglioramento nella situazione economica e sociale è stato adottato il pilastro europeo dei diritti sociali che non sappiamo come attuale ma intanto il pilastro è stato adottato il pacchetto sull'economia circolare le strategie per bandare per bandire la plastica monouso l'impegno per la finanza sostenibile molto importante e pronunciamenti del parlamento del consiglio del del comitato economico e sociale per mettere l'agenda 2030 al centro del prossimo bilancio pluriannuale e l'impegno delle società civile e delle accademie anche per ridurre per gli sdgs ma non ci siamo l'agenda 2030 è stato totalmente assente del discorso del presidente della commissione sullo stato dell'unione il 19 dicembre la commissione europea pubblicherà un reflection paper per capire come introdurre l'agenda 2030 nelle politiche europee tre anni per un reflection paper e sappiamo che ci sono delle discussioni forti all'interno della commissione buongiorno presidente prego qui davanti di fatto è un rinvio all'anno prossimo dopo le elezioni europee e la costituzione della nuova commissione e perderemo un altro anno quattro anni così invece di partire a razzo anche perché dobbiamo considerare che i governi hanno negoziato per due anni l'agenda non è che è arrivata improvvisamente da da un altro pianeta e l'italia l'italia lo sappiamo non è su un sentiero di sviluppo sostenibile questi sono gli indicatori per l'italia naturalmente abbiamo sofferto e soffriamo terribilmente sugli indicatori sociali ma su alcuni aspetti come per esempio l'educazione abbiamo fatto passi importanti avanti e ora siamo dove l'europa era dieci anni fa cioè siamo ancora molto lontani dagli obiettivi chiedo scusa ancora se è possibile abbassare le luci per consentire di seguire la lettura delle slide chiederei la regia di farlo abbiamo dei passi avanti su alcuni ambiti ma come vedete i trend non sono necessariamente confermati nel caso delle disuguaglianze di genere nell'ultimo anno disponibile abbiamo un peggioramento abbiamo alcuni miglioramenti le disuguaglianze come vedete sono peggiorate abbiamo fatto passi avanti importanti sulle rinnovabili ma non sappiamo come raggiungere gli obiettivi al 2030 e così via trovate tutto nel rapporto quindi non ci siamo perché a tre anni dalla firma dell'agenda 2030 la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è stata adottata a dicembre dell'anno scorso ma è generica mancano gli obiettivi quantitativi la direttiva firmata il 16 marzo dal presidente gentiloni sposta il coordinamento delle politiche per lo sviluppo sostenibile ma non è mai stata attuata è ancora un testo in gazzetta ufficiale abbiamo lo vedremo tra un attimo avuto gli impegni delle forze politiche non tutte in occasione delle elezioni ma questo tema è sostanzialmente assente dal dibattito politico c'è una grande mobilitazione della società civile ma ancora disattenzione della politica e dei media la base statistica ringrazio l'istat per questo è migliorata notevolmente rispetto all'anno scorso insomma non siamo ancora veramente impegnati a cambiare modo di pensare questi sono gli impegni che sono stati assunti dalle forze politiche in occasione delle elezioni scorse con l'eccezione della lega e di fratelli d'italia le altre forze politiche hanno sottoscritto questi impegni e siamo lieti che sia stato costituito all'interno del parlamento un intergruppo per lo sviluppo sostenibile che oggi sia stata resa disponibile la proposta di legge costituzionale per l'introduzione del principio dello sviluppo sostenibile in costituzione Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.